Titoli per quasi 150.000 euro sono quelli scovati dalla Guardia di Finanza in una banca di Milano in possesso del docente Luca Nivarra. Il professore ordinario di diritto civile dell'Università di Palermo, già coinvolto nell'inchiesta sul caso Saguto, era finito ai domiciliari la settimana scorsa con l'accusa di falso e peculato, perché secondo la procura si sarebbe appropriato di 326.000 euro di affitti durante la gestione del patrimonio di Baldassarre Sapuppo. Nel testamento chiedeva infatti che parte dei suoi beni venissero donati a una fondazione, mai però entrata in funzione. Ad occuparsene in qualità di amministratori nominati dal Tribunale civile era stato dal 2006 al 2014 Luca Nivarra, mentre dal 2014 in poi la gestione era passata nelle mani dell'avvocato Fabrizio Morabito, accusato nell'inchiesta solo di peculato e al quale la finanza ha sequestrato 6.000 euro in contanti. Nivarra avrebbe presentato nel corso degli anni anche relazioni e dati finanziari falsi. A fare scattare gli accertamenti la scoperta di irregolarità da parte degli re di Sapuppo che erano riusciti a far annullare il testamento. Ai due indagati sono stati bloccati i beni per 160.000 euro, la maggior parte dei quali appartengono proprio al docente universitario.